Buongiorno a tutti, siamo mancati un po', sono mancato un po' per questa rubrica dove si parla ovviamente dell'Inter. Cosa è successo durante la mia assenza? In campionato diciamo che la squadra sta continuando a macinare punti su punti, ma nonostante ciò la Juventus con il suo modo di giocare conservativo, catenaccio e contropiede, soprattutto con le sculate all'ultimo secondo, con gol incredibili fatti dai vari Gatto, Cambiaso e ieri addirittura il Diz. Continua a tenere testa all'Inter che sta piaccendo veramente un ritmo impressionante, nonostante ciò i punti di mandato sono solo 4, chiaro che tutti gli altri sono rimasti ormai staccati, quindi sarà una questione, un discorso a due. Con l'Inter che partiva fino a un po' fa con 4 obiettivi, la Juventus 2, oggi gli obiettivi dell'Inter si sono arrivati a 3, quindi ci siamo un pochino alleggeriti, e questo non mi può dispiacere, perché sappiamo bene che l'Inter, nonostante quello che dicono i giornali, ha delle carenze in alcuni ruoli del campo, dove effettivamente mancano i sostituti. Giocare su quattro fronti fino alla fine significa giocare più di 60 partite, e secondo me l'Inter non se lo può permettere, infatti la partita con il Bologna, più che per la sconfitta in sé, ha lasciato degli strascichi importanti, cioè l'infortunio di Di Marco e Lautaro, che se per la partita di ieri sono stati degnamente sostituiti, perché giocavamo in caso con Lecce, ma comunque sì abbiamo sofferto, è stata una partita molto sofferta, io ho visto una squadra in calo fisico soprattutto nel secondo tempo, ma questo è dovuto anche i supplementari che abbiamo giocato appunto mercoledì, e queste assenze potrebbero farsi sentire soprattutto venerdì, nella partita di Genova, che è una partita molto complicata. Probabilmente Lautaro e Di Marco non torneranno prima della partita con il Monza, perché io penso che non giocheranno nemmeno all'Epifania contro il Verona, anche se anche lì è una partita abbastanza tranquilla, quindi potremmo fare a meno anche di loro due, però una partita così dura come quella col Bologna ha lasciato degli strascichi, ma attenzione, ci sono dei giocatori che a mio avviso si sono fatti male proprio perché la squadra ha dato molto in questa prima metà dell'anno. Vedevo Danfris molto affaticato, e infatti si è fatto male, Di Marco stesso, affaticato, si vedeva insomma che non aveva più il brio di qualche settimana fa, e in effetti si è fatto male. Il Toro Martinez ha tirato molto la carretta, e si è fatto male. Non sono infortuni gravissimi, perché alla fine vanno a perdere poche giornate di campionato, e spero che gli serva per rimettersi in gioco. Vedo anche Cialanoglu molto affaticato, lo stesso Turam molto affaticato, l'Inter non è una squadra che può competere su quattro obiettivi, diciamoci la verità. La Coppa Italia è una coppa che è stata vinta nelle ultime due edizioni, così come la Supercoppa che sarà un altro inciampo, che avremo a metà fine gennaio, e che ci toglierà altre energie. Io credo che quest'anno l'obiettivo sia proprio il campionato, e quindi dobbiamo focalizzarsi su questo. Ovviamente lo sguardo ha anche la Champions League, perché siamo finalisti in carica, e perché la Champions League è un'altra cosa. Quindi io direi che questi due obiettivi vengono prima della Coppa Italia, e ovviamente della Supercoppa. L'obiettivo è la portata, ma quest'anno ci si sposta su altre situazioni. La Coppa dei Campioni ci vedrà di fronte all'Atletico Madrid. Una squadra che molti hanno preso, insomma, quando è uscito il sorteggio, tutti contenti, insomma, perché la Trico Madrid è una squadra giocabile, ma io direi che bisogna fare un attimo un passo indietro. La Trico Madrid è una squadra molto rognosa, è una squadra tosta, è una squadra che non ti fa giocare, che non ti lascia spazi. Forse è una delle squadre peggiori che l'Inter potesse affrontare. È vero che il Bayern, il Real, il Manchester City sono più forti, su questo non ci sono dubbi. Probabilmente anche l'Arsenal è più forte. Ok? Però, però, sono squadre diverse, sono squadre che ti fanno giocare. Cioè, una partita con il Bayern, una partita che tu giochi, probabilmente potresti perdere, ovviamente parte sportiva, è bandaggiato, però è una squadra con cui tu giochi a viso aperto. Gli puoi far male e ti possono far male. La Trico Madrid è una squadra molto scorbutica, è una squadra che sicuramente sarà chiusa, è una squadra che non concederà spazi, e comunque lì davanti quei due sono letali, Morata e Griezmann. Più c'è la De Paul, sono ben allenati, perché Simone, Simone è un allenatore veramente tosto, quindi io ci starei cauto, insomma, ad essere contento. Un conto è se ci capitavano Borussia Dortmund e Barcellona, che secondo me sono squadre, Borussia Dortmund è proprio più deboli. Il Barcellona probabilmente è anche più forte della Trico Madrid, ma è una squadra che lascia spazi, è una squadra che lascia giocare, è una squadra con cui l'Inter, a mio avviso, con i giocatori si trova, ci va a nozze. L'Atletico è una squadra con cui noi soffriremo, è una partita che sarà 50-50, dove dovremmo stare attenti, ovviamente, a non sbagliare, soprattutto la partita d'andata, perché, sì, loro sono molto forti al vincente Calderon, però magari giocano anche un po' più a trazione anteriore e potremmo fargli male con le ripartenze. Ma questa è una storia che riguarderà adesso il mese di febbraio e marzo, quindi non è una questione di adesso. La questione di adesso vede la squadra che ha diversi infortunati, siamo arrivati a 23 in stagione, e questi infortuni preoccupano soprattutto dal punto di vista degli esterni, perché Darmian è un giocatore che veramente si sta sacrificando, ma ormai l'esterno a tutta fascia non lo può fare. Carlos Augusto si sta invece bene, sta giocando veramente un bel calcio, però anche lui, insomma, in assenza di Di Marco, deve fare un po' gli straordinari. Dietro stiamo aspettando gli recuperi, insomma dei vari De Vrij. Certo, c'è questo Bissek che sta giocando una stagione impressionante, insomma, non ce l'ha nemmeno aspettavamo, ma anche dietro siamo un pochino in difficoltà. Anche lo stesso Bassone appena rientrato, non mi sembra nelle migliori condizioni, lo stesso Pavard, non mi sembra nelle migliori condizioni. stiamo un pochino in apnea, adesso è importante fare i punti, il calendario un po' ci aiuta, perché fino alla partita con il Monza non incontreremo big, però sono scuole che bisogna abbattere e non è facile, ripeto, soprattutto la partita di venerdì a Genova. Per il resto, diciamo che questo giorno di andata, noi, l'Inter, potrebbe chiuderlo a 50 punti, se dovesse fare 6 punti nelle prossime due partite, 50 punti significa che, in prospettiva, ripetendo l'eccellente prestazione dell'andata, finiremmo a 100 punti. E nonostante ciò, nonostante ciò abbiamo incollato una squadra che è inferiore dal punto di vista della Rosa, dei giocatori, ma non molla un centimetro. Ed è una cosa che un po' mi fa preoccupare, vedendo anche come ci siamo comportati a febbraio e marzo degli ultimi due anni con Inzaghi. Speriamo che questa cosa non si ripeta. Per il momento, stagione positiva, non farei un dramma, ripeto, sulla Coppa Italia, perché è un qualcosa di vinto e stravinto. Negli ultimi due anni, penso che quest'anno il focus è proprio spostato interamente sul campionato. Chi parlava di triplete, non sa di che cosa parla. Io sentivo molti interisti, il triplete, anche molti altri tifosi. Il triplete di che? Di che cosa? Triplete di cosa? Ma l'Inter è una squadra che può fare il triplete? Ma l'Inter è una squadra ben messa in campo, che gioca un gran calcio, è una squadra che comunque sia stata costruita con pochi spiccioli. Non ha niente a che vedere con la squadra morattiana che fece il triplete, ma che aveva fiorfiori di giocatori. Questa è una squadra che all'inizio dell'anno abbiamo detto tutti che si era indebolita. Facciamo un attimino mente locale, stiamo cercando di arrampicarci sui vetri in una situazione di pesante disagio a livello finanziario. Quindi triplete e cosa? Quest'anno l'Inter deve vincere dalla seconda stella. Adesso nel mercato di giornale di riparazione, probabilmente arriveranno un paio di elementi, arriverà sto Buccianan che potrebbe dare un attimo fiato a Danfris e Darmian perché, ripeto, sulla fascia siamo destra, siamo veramente messi male. Visto anche che Quadrato ormai ha finito la stagione, non penso che rimetterà più piedi in campo. E secondo me andrà via Sanchez. Andando via Sanchez bisognerà scegliere un attaccante che lo vada a rimpiazzare. Non è che ci voglia molto perché Sanchez veramente è a fine carriera e non si capisce come abbiamo potuto riprenderlo. Però, attenzione a non prendere i vari, per risparmiare i vari Kai'Seid o Beast perché non ci serve. A noi ci serve un attaccante che può far rifiatare quei due lì davanti. Muriel? Beh, sicuramente sarebbe un upgrade. Sicuramente Muriel è molto più forte di Sanchez che potrebbe fare al nostro caso. Altri attaccanti non le vedo. Taremi partirà per la Coppa d'Asia non credo che sia l'obiettivo dell'Inter visto che lo prenderemo a zero probabilmente a giugno. Quindi non lo so. Grosso punto interrogativo. Prima cosa bisognerà vedere che fa Sanchez. Comunque ci lasciamo così ci ritroveremo probabilmente dopo venerdì con il post della partita Genoa-Inter per il momento. Vi auguro Buon Natale a tutti.